Ma che cazzo? Tutte armi strane ti sta dando? Lighting LZ1 Ah mia, la seconda Wunder è presa Ma che cazzo è? Che culo di merda Ma non so proprio cosa siano Ma ora me la faccio io una cazza che almeno Ma non so cosa siano, sono cose stranere A me l'Olympia, bella Ok Dove sei? Ok, ho tirato un'altra collezione completa Oh Io ho tutti per Allora la pistola me la sto tenendo in questo momento E non la sto cambiando perché ci servirà per l'easter egg E' per questo che Ok Quindi magari lo dico per chi guarda il video C'è una sala e l'ho preso Ora però c'ho il mule kick quindi scambio Il mule dick raga, il cazzo del mule No Anche questa è un'arma di Mule for firmer 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 Esatto Salutiamo Mule for firmer Ci segue sempre anche lui Oh RPD Niente male Dai Che è sta roba? Ah una torcia con l'ombra strana Ehm Allora io ho l'M16 L'RPD E la M1911 Io ce l'ho armi che non so cose siano Allora assolutamente dobbiamo lasciare uno zombie a sto round Ma che cazzo Sento rumori strani Sì sto usando la lighting LZ1 Ma è stranissimo Eh lo so Vediamo se Ma non so se Mi sa che solo un giocatore le può ottenere Ah se quella la butto nella cassa se la vuoi far vedere Tanto non è che mi ispiri più di tanto Sì magari cerca un'arma buona e poi Ah facciamo così Lasciano zombie Tanto io Eh non ne ho Oh ok Rimarenti tre comunque Rimarenti tre Aspetta che butto via le granate Sì La cassa è sopra? Ehm No mi sembra Se non è mai migrata è ancora al bunker in teoria Che è tipo il terzo livello Secondo No terzo Senti? Ok Sì 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 Stavo giocando con lo zombie Ok io ce l'ho uno qua di zombie Sì è al bunker confermo Arrivo allora Allora io vado a Bared a farmi una gabunga Perché Bared mi dà più fortuna Vediamo Non è vero Il bunker qua Sopra Sopra No no Sopra Sì sì Due due ne si è rimasto solo uno Ah ok ok No due Comunque c'è il contatore di zombie in alto a sinistra Lo lo giusto Oh mi hai ridato fontana speciale Ok la lighting come cazzo si chiama lei L'ho lasciata per il commando Benissimo Allora adesso vi faccio una cosa molto Molto furba Vado a prendere tutti i perk che costano meno Ho trovato la Blunderbuss Ok Non lo so Cosa non lo so Solo che c'erano due Ma dai Ma mi ha fatto anche a me il bug Del perk uguale Eh Ma che cazzo Va bene Ma meglio questo che forse la banana colata Se mi tieni quasi due zombie cagagazzi come la merda Io potrei attivare i saldi perché ho collezione completa Ah It's buono Però tienimi lì lontani perché mi hanno rotto tre quarti di minchia Aspetta mi metto pure io vicino a una cassa Qua c'è la cassa Dove E uno sta correndo come un infognato Ascolta lo uccide Ma lasciane uno In first room non ci sono casse Ah eh Non me lo so Non lo so Allora Allora uno è al bunker sicuro Eh vabbè vacci te al bunker Che così la fai appena chiamo No aspetta però Me ne cerco uno meglio perché qua al bunker è veramente molto Allora me la prendo io No con lo zombie non riesco L'al bunker Qua ce ne dovrebbe essere uno Sì qua c'è lo spot Vabbè però mi devo prendere anche lo zombie Eh sì Vai ce l'ho io lo zombie vai Ok aspetta un attimo che vado al bunker Quanto costa Ok widow swine Ah no 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 Tiriamo via le granate Ok Ah ma ho sostituito la Ma hai preso un munizionario al massimo Che mi ha ridato le granate widow swine Bella Ah bella Tirate via Ok allora io ho perso la cassa Vado qui sopra Ma come hai perso la cassa Eh perché mi stavo allontrando per tirare via le granate Però tanto è qua la cassa a posto Eh mi ha dato l'elettricere widow swine E la banana colata anche Ho trovato il thompson Buono Mi sa che lo zombie sta Oh executioner Bella No non è vero Lo zombie è qua Perfetto Ah che cazzo Mi ha ridato Inova me la Wunder No vabbè non la prendo Ma basta Senti per il pagapancio si potrebbe già fare Sì Allora Intanto mi disattivano un attimo E non soffiamo il naso Un secondo Vai Allora io cerco qua la double tap Perché è il secondo perk O il terzo Che costa meno Ed effettivamente non è qui la double tap Ok eccomi Dov'è che sta il pagapancio? Prima stanza In basso a tutto Questa qui già ce l'ho Che è quella con l'omino Che schiaccia un altro omino Poi c'ho la banana colata Lo zombie Tato si è rincoglionito E Buono per lui Jug Speedcola Mulekick Quick revive Widow swine Electric cherry Cioè vabbè io pure ce l'ho tutti Avevo la basso Eh no mancherebbe la stamina E la prendo perché costa 2000 Quanto la Eh vabbè mi dà di nuovo le banane colate Ma allora sei pirla Le banane colate Eh sì ora c'ho due banane colate Io ho due banane colate E il tizio che fa crossfit Loricamente Allora double tap te l'hai vista? Io mi sembra di sì 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 Ah ecco qui 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 Ecco Bella Ok mi sa che ho tutti i perk Sì perché Teoricamente Tre Sono nove Sì nove più altri Tre Che vabbè se in realtà sono due Idem io Che in realtà sono due però Se sa cos'è C'è anche la casa Vabbè io Vabbè mi posso anche cambiare Io nel dubbio ho potenziato tre armi Tre armi? Ok Io mi devo potenziare l'M1911 Perché ci servirà dopo Ma allora Vediamo gli step Questo è un meraviglioso strumento Che ci servirà più avanti Allora Potenziare l'M1911 C'ho come step Canandi Potevo anche evitare Potevo anche evitare Prendere tutti i perk Vabbè Ok vabbè Allora potenziamo l'M1911 Con quali punti Non lo so Tra l'altro ho finito tutte le Gabblegum Te li posso Te li posso passare No bugia Lascia stare Lascia stare Lascia stare No no Non sui cittadini Perché ho un'altra collezione completa Ma non ci arrivi lo stesso No No infatti A meno che non becchi I punti dalle Gabblegum Non ci arrivi Sì Allora Devo decidere dove girare qua Io direi qua Alle docce Allora Se tu giri le docce Io giro qua Di fronte al bunker Ci riesci lì Un po' ostica Tu lo scoprirò Va bene Allora uccidilo Vai così siamo anche Relativamente vicini È che per quello sto dicendo Ma le scinghe non ci sono In sta mappa Non lo so No c'è una cassa qua C'è una Gabblegum Andiamo un po' a suicidare Già un po' a suicidare Ah collezione completa Bella Ma quel tempo di dirlo Io ne sto tirando un altro Collezione completa Vai vai Allora vediamo se riesco Sì sta la cassa qua Vai Tu ricordati che devi arrivare A 5.000 per Sì sì Non c'è anche lo scudo Nella cassa per la cronaca Cosa? Sì K74 Ma arrivano anche da sopra Miglia triple punti Vai così che ci sono instant No no Ma hai dato l'arma speciale C'è instant cazzo Finalmente Ziggs Ziggs C'ho lo ziggs Sì ho capito Ma com'è che si utilizza? Ho visto che sparava cose esplosive Tipo Va bene Allora Vai 5.000 Ah e Ma che cazzo Cioè hai presente La linea di perk sopra? Sì Quelli sovrapposti sono il secondo Sì Mi sa che anch'io Cioè c'è tipo una lineettina Non si vede ora Però se tornate indietro col video Avete visto che tipo ha fatto Sì sì ma ce l'ho pure io Ha fatto un cambio tipo Vabbè allora quanti Oh 7 zombie mancano Ce l'ho tutti Quanto migrare la cassa Ah speriamo che non muoiono Quanto Perché uno prende anche fuoco tra l'altro Ok Allora Allora Sei Facciamo che sarò io Quello che arriverà ai 50.000 Dell'endgame Va bene Allora Quando hai collezione completa Tipo Pronto per l'utilizzo Prendi due punti E io attivo Il bonus Allora intanto Aspetta aspetta C'ho due zombie Ah mi ha ridato la granata Vai Allora Vado a potenziare l'M1111 Che ci serve per l'isteria Vai e poi A fine round Magari attivi collezione completa Così prendiamo tutto Tipo Vai Cioè Due per Sui soldi E cose varie Mi fotto tutti i soldi possibili Immaginabili Allora Vediamo se si può già completare Questo minister egg Sì si dovrebbe Già completare Questo round Ok Che ha detto Leggendo veloce Le mie scritte Le mie cose scritte Allora M1111 potenziata Che purtroppo Non diventa Non diventano le Mustang SL Ma la drop kick Che è tipo Una Mustang singola Una lascia calci No 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 Non dovrebbe sparare Vediamo No non spara neanche Missili Cioè neanche Colpi esplosivi Sì lancia calci Cioè lascia calci Non lo so Allora 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 Grazie a tutti.